La giornata è intensa, è ricchissima ed è iniziata con i toni dolci, però diventa una discussione vera e propria, ci piace perché arricchisce il contesto e vengono fuori dalle situazioni eccezionali. La scienza è questo, discutere, dibattito, confronto, sono sempre toni dolci, ma altrimenti sarebbe noioso se non ci fosse un minimo di dibattito e adesso sono venuti fuori alcuni punti, oltre all'architettura, i templi santuari, anche l'abitato, la lacuna, l'abitato pre-romano di Pestum, come abitavano, come vivevano i greci che hanno costruito i templi di Pestum. Sappiamo molto delle tombe, dei templi della città, come spazio, del lago Rà, abbiamo sentito viene il mercato, la piazza della città, ma sappiamo ancora relativamente poco delle abitazioni, della vita quotidiana, dell'economia domestica e quindi queste ricerche adesso... Ma noi fidiamo molto sull'autonomia del parco archeologico di Pestum, sulla vostra grande liberalità nell'accogliere così tanti entri, Università, Fondazione Pestum, altri contributi allo Stalo che possono collaborare per far crescere le conoscenze. Siamo onorati che abbiamo la presenza non solo di tutte le università della Campania, tutti gli Atenei Campani sono in un modo o nell'altro presenti a Pestum, ma anche di Atenei italiani da altre parti, di Atenei stranieri, perché solo in questa maniera Pestum può sempre più diventare una palestra, un cantiere internazionale della ricerca archeologica, dove vediamo anche non solo nuovi dati, ma anche nuovi approcci, nuove metodologie. Noi veniamo dal paese della Paola Zancani Montuori e nell'entrare abbiamo visto la Casa dei Sacerdoti e la definizione di Paola Zancani, che significa che a circa 40 anni dalla morte si parla ancora di Paola Zancani, vuol dire che è una personalità importante. Assolutamente, abbiamo parlato all'inizio anche delle metove. In questo caso abbiamo un po' rivisto la sua definizione, perché l'abitazione dei sacerdoti è un po' un concetto della casa, del parocchiale, è un po' un concetto moderno. I sacerdoti in antico erano cittadini, che assolvevano a questo ruolo a volte solo per un periodo di tempo, a volte anche più lungo e quindi non dobbiamo immaginare l'organizzazione di un santuario greco con una specie di casta di sacerdoti separati dal corpo civico, ma la religione greca è, come si suol dire, è una polis religion, una religione della polis della città, dove non c'è distinzione, come oggi negli stati nazionali, tra religione e stato di governo. È tutto molto intrecciato, ma a partire dai bambini che vengono introdotti nella società, attraverso dei rituali, dei riti, fino alla morte. Quindi tutto è un fatto religioso e politico. Complimenti per la mostra dedicata alla vita. Grazie. Grazie.